Gianni Zonin porta in tribunale la Banca Popolare di Vicenza. Avete capito bene, lui, l'ex presidente, cita in giudizio l'istituto di credito di cui è stato il numero uno in discusso pleni potenziario per 17 anni consecutivi. I suoi avvocati hanno notificato alla banca un atto di citazione dinanzi al Tribunale delle imprese di Venezia. Si tratta della risposta all'azione di responsabilità decisa dal CDA nei suoi confronti per gravi irregolarità che avrebbero causato danni per diverse centinaia di milioni di euro. Gianni Zonin, che in estrema sintesi punta il dito contro l'ex direttore generale e il suo vice e dice di non aver potuto accertare alcune loro operazioni, nella nota scrive che sotto la sua gestione BPV ha distribuito ai soci consistenti utili conseguenti alla gestione profittevole della banca, mentre nel periodo successivo alle sue dimissioni avvenute nel novembre del 2015 i due diversi consigli di amministrazione che si sono succeduti hanno ridotto il valore di un'azione da 48 euro dapprima a 6 euro e 30 e successivamente a 10 centesimi. Possiamo solo immaginare la reazione dei soci e degli azionisti in questo momento, ma non è tutto. Zonin precisa che nel condividere e comprendere lo stato d'animo dei risparmiatori ritiene giusto ricostruire la propria attività quale presidente dell'istituto e così contribuire all'accertamento delle responsabilità per alcune importanti deviazioni dalla corretta gestione. La magistratura ora farà il suo corso. Le frasi di Zonin hanno però provocato la dura reazione dei 5 stelle veneti. Lui, adesso chiede lui i danni alla Banca Popolare di Vicenza, si avete capito bene, vuole chiedere lui i danni una cosa veramente immorale, indegna, indecorosa e per questo come Movimento 5 Stelle noi abbiamo per primi tirato fuori la questione della Banca Popolare di Vicenza scoperchiando questo vaso di Pandora e diciamo che non ci fermiamo, anzi continuiamo a combattere perché queste persone devono essere tutte mandate via del CDA. Chi è ancora dentro Zonin inoltre dovrebbe pagare di fronte alla giustizia perché invece purtroppo è ancora piede libero. Intanto il CDA di ieri sera ha stabilito che la buona uscita dell'ex amministratore delegato Iorio sarà minore rispetto a ciò che c'è scritto nel contratto. Oscillerà quindi tra il milione e il milione e mezzo di euro. Tanti, troppi soldi e per quali risultati paghiamo?